Ben trovati al meteo. Dopo alcune giornate piuttosto miti, nelle scorse ore il clima, ce ne siamo accorti, è cambiato repentinamente. Il weekend sarà caratterizzato dall'irruzione gelida russo-siberiana, bel tempo dunque, ma tanto freddo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato 13 febbraio sarà asciutta e stabile, non sono previste piogge. Avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, ancora forti venti di bora. Temperature in picchiata minime tra meno 8 e 0 gradi, massime invece di poco sopra lo zero. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario, ancora tempo stabile con tanto sole, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime sui meno 6 e meno 2 gradi all'incirca, massime invece intorno a 1-2 gradi. Infine la situazione sarà simile anche sul Trentino Alto Adige, sarà soleggiato infatti, salvo per locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno ai meno 7 gradi, massime intorno invece a 1-2 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.